Musica Musica Questa qui è una cosa venuta per caso perché si presenta una sera a casa questo ragazzo che fra l'altro è un disabile ci dice Marco per favore vieni a fare la premiazione della caratella domenica perché dai la gente ti conosce se viene ci fai una cortesia e gli dice no no io non vengo a fare la premiazione io vengo a gareggiare all'inseputa di tutti Aligi De Canello era un costruttore di caratella questa è di Aligi De Canello che suo figlio si divertiva a tempo indietro a fare le gare quindi l'ha presa, l'ha portata giù e il primo allenamento l'abbiamo fatto qui dalla chiesa alla discesa dove si sarebbe svolta la gara di notte con una macchina dietro la caratella che illuminava la strada insomma e ricordo che l'ultima curva che era una semicurva e dopo c'era il traguardo ricordo che mi ha detto babbo l'ho fatto in pieno senza frenare perché non volevo frenare guarda tagliare il traguardo a tutta velocità e poi quello che vedete lì era lo skill per il ritorno Coriano ha veramente conosciuto Marco Coriano si è innamorata di Marco in questi giorni perché Marco era così quando lo conoscevi ho imparato non lo lasciavi più e un mese dopo ha deciso di andare a casa e un mese dopo